che cosa c'è papà ti voglio bene questa è la prima volta che me lo dici io te l'ho mai detto quanto ti voglio bene non devi prendertela se me lo hai detto l'ho dimenticato non so più fare niente nonno stai cercando qualcuno dove è nonna tu l'hai vista mamma mamma non c'è più non ti ricordi niente so che non vuoi sentirtelo dire ma credo che abbia qualche problema papà ho parlato con un medico sarebbe una buona idea se tu andassi da lui perché? perché non ricordo più niente io non mi ricordo che posso fare per farlo stare meglio? cerca di entrare nel suo mondo così si sentirà utile dimmi com'è conosciuto nonna l'hai conosciuta a venezia vero? e chi se lo dimentica? e se ci andassimo insieme? mi hai fatto mezzo pelato quello che stai facendo per tuo nonno è straordinario siamo una squadra tutti moriamo prima o poi quando arriverà il mio momento ricordati che ti voglio bene ti voglio tanto bene volete scoprire se il trailer è entrato nella nostra classifica? visitate il link nell'infobox e commentate sotto al video ricordatevi inoltre di cercare Screen Week e di iscrivervi a tutti i nostri social YouTube, Facebook, Twitter e Instagram per ogni notizia sul cinema, sulle serie TV per il gossip dell'ultima ora e le recensioni delle ultime uscite non perdetevi il nostro blog blog.screenweek.it volete inoltre rimanere connessi anche dal vostro smartphone, Apple o Android? scaricate le nostre app Screen Week e Screen Week TV sono gratuite ciao!